Ciao, sono Elisabeth, ho 29 anni, vengo da Lima, Perù, ho una figlia di 10 anni e sono qua a Italia da 7 anni. Sto lavorando al ristorante sociale creato dal CIES Omlus e sto facendo dei corsi dell'avioimpresa by our site. Grazie al CIES che mi hanno aiutato a creare il mio sonno di aprire la mia pasticceria. Il mio messaggio all'istituzione e alle entità private è di aiutarci con il nostro sonno, dall'educazione fino al lavoro. Noi siamo il futuro, vogliamo costruire una società migliore, realizziamola insieme.